Li vuoi conoscere? Vieni a conoscerli, no? Penso che per divertimento sarebbe se non fosse per niente, come hai detto tu. Ma lo conosco. No, e questo è il bello. In fondo chissà quanti penseranno che siamo un po' strana come coppia. Che diavolo sta succedendo? Non parlare, Hillary, ma in grana. Sono loro il mondo e lo cambieranno, questo sporco montaggio. La sola cosa che conta è ciò che loro sentono, l'uno per l'altro. Indovina chi viene a cena, domenica alle 21.20.